Benvenuti a Monte Carlo. No, non siamo nel Principato, ma in un piccolo gioiello nel cuore della provincia di Lucca, raffinato ed elegante, dall'atmosfera suggestiva e penetrante. Merita senza dubbio una visita alla chiesa di Sant'Andrea, che risale alla prima metà del XIV secolo, perché è stata completamente ristrutturata nel corso del Settecento. Il comune di Monte Carlo è situato in cima al colle del Cerruglio, da cui prende il nome la Fortezza. La Fortezza di Cerruglio domina la valle, ha una forma triangolare e le sezioni più antiche sono costruite da una torre a struttura semicircolare e merlante. La torre del Maschio e da due torri gemelle, la Torre dell'Apparizione e la Torre di Santa Balla. L'elegante e curato centro storico è circondato dalle mura cittadine, ancora oggi intatte, e lungo le quali possono ancora essere ammirate tre dei 15 porti originari. La Porta Fiorentina, originaria porta principale, da cui parte la strada che conduce verso Firenze. La Porticciola verso Lucca, entrambe del Trecento, ed infine la Porta Nuova a Sud, che fu riaperta nel Cinquecento. Dalle Viuzze del Centro Storico vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.